I migrati regolari sono una grande risorsa per tutti noi e vanno rispettati. Sono in maggior parte coloro che hanno occupato spazi di lavoro che i nostri italiani hanno lasciato vuoti, collaboratori domestici, badanti, governanti, ma soprattutto operai agricoli, operai addetti a mansioni e turni pesanti, come quelli che hanno purtroppo trovato la morte sul posto di lavoro nel terremoto delle mine. Nei loro confronti abbiamo il dovere non soltanto della gratitudine, ma di assicurare tutte, dico tutte, le condizioni di applicazione delle nostre leggi, in tema di sicurezza del lavoro, di riconoscimento del loro diritto ad una equa retribuzione, di corrisponzione di contributi lavorativi, di diritto al godimento delle fede. Condizioni in tutto e per tutto uguali a quelle applicate ai lavoratori italiani. Lo affermo con forza perché purtroppo, troppo spesso, non è così.